Valorizzare il passato per costruire il futuro. Questo il proposito che ha mosso un gruppo di amici e volontari nel ridare vita e prestigio al cammino camaldolese tra Umbria e Marche. Un percorso di 80 chilometri immerso nella natura tra piccoli borghi, castelli e monasteri che dall'abbazia di Monte Corona passa per San Benedetto Vecchio, per la Serra di Burano, fino al monastero di Santa Croce di Fonte Avellana. Un cammino libero e spontaneo, pronto ad accogliere tutti i camminatori che vogliono vivere un'esperienza culturale, ambientalista, spirituale, escursionistica. Verrà inaugurato giovedì 25 agosto da coloro che hanno deciso di valorizzarlo e di rinverdire la conoscenza dei monaci camaldolesi ed in generale Benedettini nella zona Umbro-Marchigiana, anche in vista del millenario della morte di San Romualdo nel 2027. Celso Bini, Franca Cecchini, Sergio Clementi, Valentino Palpacelli, Angelo Venturucci. L'appuntamento è alle ore 8 all'abbazia di Monte Corona, dove il Vescovo di Gubbio e città di Castello, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, impartirà la benedizione ai partecipanti, mentre il sindaco di Umberti deconsegnerà la patente del pellegrino. Il cammino, perfettamente segnalato con il simbolo blu cielo e dallo stemma camaldolese, sarà suddiviso in quattro tappe per quattro giorni. La prima, dall'abbazia di Monte Corona, raggiungerà la cima di San Benedetto. Il di seguente si toccherà la serra di Burano, dove nei pressi della chiesa di San Lorenzo i camminatori riceveranno il saluto del sindaco di Gubbio. Il 27 si partirà alla volta di Chiaserna, all'arrivo ci sarà il vicepresidente della regione Marche, domenica 28 infine si raggiungerà il monastero di Fontavellana. Tale cammino, a cavallo tra le due regioni, funge d'anello di congiunzione tra altri due che verranno inaugurati il prossimo anno, quello tra Camaldoli e Monte Corona e quello da Fontavellana a Norcia. Nei prossimi mesi verrà realizzata una cartina descrittiva con i luoghi di interesse toccati tra i comuni di Umbertide, Gubbio, Cantiano, Serra Sattambondio e Cagli. Si tratta di un progetto autofinanziato, valido e ben costruito per riscoprire territori e luoghi di grande spiritualità, storia e cultura e i valori che in essi si fondono.